Danilo Chiodetti alla 25esima edizione della Borsa Mediarana del Turismo Archeologico si è parlato di Spoleto ovviamente come Assessore alla Cultura. Qual è stato il senso dell'intervento di oggi? Si è parlato dell'Associazione Italia Langobardorum dove attualmente sono il Presidente in qualità di Assessore di uno dei sette comuni che fanno parte del sito UNESCO dell'Italia Langobardorum e luoghi del potere. Oggi abbiamo parlato del gaming, una nuova forma di divulgazione di tutto il nostro patrimonio artistico, in questo caso dell'Italia Langobardorum quindi della divulgazione e della conoscenza di questo popolo che nell'immaginario collettivo è visto come un popolo di barbari invece stiamo portando una nuova conoscenza, una nuova visione di questo popolo invece come un popolo che ha sviluppato una nuova cultura in Italia quindi si è integrato con la popolazione che ha trovato nel momento in cui è sceso in Italia e ha valorizzato e arricchito il patrimonio culturale e artistico. Quindi uno degli scopi proprio della nostra associazione è quello della divulgazione e quindi con questo nuovo settore del gaming vogliamo arrivare alle generazioni più giovani e quindi nel mondo delle scuole, nel mondo anche dei bambini, dei ragazzi e quindi un nuovo modo di approcciarsi alla conoscenza della storia. Per quanto riguarda la divulgazione della cultura, dei siti archeologici si è parlato sempre dell'innovazione tecnologica. Il gaming può entrare a far parte effettivamente in maniera massiva come veicolo anche per i ragazzi come ha detto lei ma anche per i più grandi? Non può ma deve secondo noi perché oggi abbiamo proiettato anche dei numeri e veramente la presenza di giocatori, quindi in termini di pubblico che utilizza proprio i videogiochi è molto più ampio di quelli che sono gli strumenti di comunicazione per cui è un settore che va sviluppato e giocare e anche però studiare e quindi conoscere e approfondire la storia, secondo noi è un canale vincente che può decollare e quindi diciamo come sito UNESCO siamo il primo in Italia che abbiamo proprio lanciato questa nuova forma di divulgazione e di conoscenza. Grazie a tutti!